Ciao a tutti e bentornati a Miss Teenager Original nel nostro spazio flash cinema e televisione. Oggi volevo parlare con voi di un film molto bello che consiglio a tutti, ovvero Dear John. Il film parla della storia d'amore tra John e Savannah, interpretati da due attori a mio avviso molto bravi che sono Channing Tatum e Samantha Seyfred. John è un ragazzo ribelle che vive insieme al padre e che per plagare la sua inquietudine decide di arruolarsi nell'esercito. Un giorno incontrerà la bella Savannah. Tra i due scoppierà subito un colpo di fulmine e passeranno ogni istante insieme fino al momento in cui John non dovrà partire per lavoro. Allora i due si ripromettono di iscriversi tramite lettere d'amore. Però il film non parla solo d'amore, toccherà anche argomenti molto importanti. Ho deciso di parlare di Dear John perché volevo collegarmi al fatto che l'attrice Samantha Seyfred la rivedremo a settembre al cinema con il sequel di Mamma Mia, il musical che più di tutti ci ha fatto innamorare. Mi raccomando, andate sul nostro canale YouTube e commentate in modo tale che possiate condividere con me tutto ciò che pensate a riguardo. E vi ricordo che con un solo clic potete iscrivervi al canale. Io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!